per youtube mi sono tentato agganciate al quattro vedete se non riuscito ad agganciarmi a quella fessua lì basta semplicemente lasciarsi scendere dalla scogliera me lo faccio vedere a sto punto ma si vanno con sempre qua sotto c'è l'aggancio se mi lascio andare e aggancio sotto il rampino lo prendo al volo riesco a prenderlo al volo ora andiamo a caricare bene il nostro pendolo vai vai ok sono un problema di di carico prima ecco di qua i scalini arrivo arrivo Ok. stavo meglio prima Sam allora vediamo se di qua c'è qualcosa di utile sai quel rampino così mi servirà per arrivare là ahia ancora un po' di carri in corsa non mi fido vai Sam sono qui perfetto siamo ancora sulla strada giusta ok ok andiamo avanti vedete da spiaggia siamo sbarcati per la prima volta un paio episodio di fa mi pare allora proviamo il buttarci giù c'è qualche attacco no no niente di qua non si passa vabbè di qui c'è una comoda scala perché non una torre un'occhietta dentro un console incollezionabile va bene beh non c'è molto in stato ora effettivamente ma penso che arrivando su sono arrivato su vero dai adesso da qui si può spiccare ecco lì il rampozzo hopete via andata bene la seconda più grande cisterna che abbia mai visto e te lo dico dopo forza scendiamo si si vieni a scendere qua e poi vai il rampino no 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 vabbè cominciamo da qua Sam vieni da questa parte porca puttana ma tutto bene ok siamo dentro non lo mettiamo a cestuolare il simbolo di il nostro amico Ivery benesima statua fin qua ok andiamo a vedere anche in giro non fermiamoci la stanza ma così è andato ma così è andato magazzino acqua e ancora acqua ok di qua non c'era niente di interessante andiamo qui qui c'è qualcosa di interessante questo spesso è collegato con la stanza di là Sam guarda questo diorama sembra la strada di una città avranno davvero costruito questa roba con questa gente non si può mai sapere è davvero ben fatto è davvero very lo è davvero non mi puoi inviare e qui c'è che è davvero la strada di una città è la strada di una città che è avvado la strada di una città la strada di una città non è assoluta No, vabbè Per carità Sam, dai un'occhiata È la nave di Everi Ma thanks E sta attaccando la Gunsway È così che tutto è iniziale Everi e Tiu A consiglio con i loro capitani Forse stanno scrivendo il loro codice di condotta Il Bill of Rights dei Pirati Nour code, infatti The founder I sigilli dei capitani Tutti raccolti intorno a Everi Nathan, questa è La storia della fondazione e di libertà Cianografie Beb, marronegrafie La razza di posto è questa Una specie di campo base È qui che hanno progettato libertà Resta una domanda Hanno realizzato i loro piani Per forza Guarda che roba Non passi la vita ad architettare qualcosa Per poi rinunciare all'ultimo secondo Non sempre le cose vanno come prevista Tanto interessante da guardare Sto non la fa prendere ancora Non so se neanche perché Andiamo avanti a guardare Oh, andiamo avanti Non so se neanche a nulla Anzi, questo dovrebbe essere Doveva essere l'ingresso In teoria quello che Facevano le macerie Così a naso Dove ho avuto una stanza La stanza è qua E potrebbe funzionare così Che stanno? Che stanno fuori uso Non l'avrei mai detto Ehi, pensa A tutti quei tesori Sì, però la penso alla mia schiena Merda E mo' che c'è dentro qua? Abbiamo un'altra prova da superare? Ah, così pare Che sto a fare? Ci resta che provare Ok Ok ma nessuno è un bel i simpoli sulle sfere non sono quelli luminosi e devo far girare qualcosa da sopra qualche modo i simpoli Ah, fanno ruotare i simboli. Potrebbe servire. Potrebbe servire. Potrebbe servire. Sì, 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 sì. Così, direi. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo. Vediamo. Ok. Allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Ok.